Parliamo dell'emergenza sbarchi e dei naufragi di migranti che continuano nel Mediterraneo. Nelle scorse ore centinaia di migranti sono sbarcati da una delle tre ONG. Una situazione che rischia di compromettere del tutto il sistema di accoglienza italiano già notevolmente affaticato. Forze dell'ordine che sono dovute intervenire anche ieri sera proprio per coadiuvare uno sbarco. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Grazie a tutti.